musica 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 sblobbiamo il pallone stiamo subendo sottocambo la partita nonostante sia l'ultima del giro cercheremo di puntare al secondo posto è una vittoria importante per voi buco al lupo ragazzi adesso andiamo da massimo 3 a 1 massimo ultima gara della regular era importante per la state giocando sicuramente potete ottenere un stato positivo siamo poco convinti quel problema partito equilibrato solo che facciamo fare dei gol assurdi l'ultimo l'ultimo è il partito dalla sua porta bisogna migliorare in guisto altrimenti non si guarda la sua porta va bene buco al lupo ragazzi a dopo l'intervista finale siamo nel post partita del match a 3d con neapolis 6 a 2 siamo con i migliori in campo molica la mia destra natura di una tripletta se non sbaglio alla mia sinistra c'è riccardi doppietta la torre dei due gol per l'atletico parliamo prima con te ragazzi sembra che avete un po mollato la presa oggi anche qualche assenza primo tempo abbastanza bene nel secondo loro hanno legittimato la vittoria sì loro erano nettamente superiori a livello fisico poi comunque ho visto che è una buona squadra organizzata anche dietro un portiere pure ottimo portiere mi piace bella squadra solo che come hai detto tutte le assenze comunque contano e pesano e quindi ci mancano almeno un paio di elementi Mimmo giusto per il citato che fa la differenza è vero però comunque mi sono divertito è stata una bella partita assolutamente vuoi fare una dedica particolare per la tua coscietta? la dedico alla mia ragazza come sempre va bene ti saluto ok con lui per le fasi finali adesso parliamo con Cicco Cicco Vittorio è importante per cercare il secondo posto adesso c'è questo Duralex Atletico Madrid che può decidere un po' la vostra posizione ma voi il vostro l'avete fatto con i tre punti sì era importante vincere questa partita trovare un buon gioco che per me stasera abbiamo trovato poi la classifica è relativa secondo terzo poi ce la giocheremo a playoff con chiunque assolutamente adesso comincia un'altra fase del torneo sarà andata il ritorno da questa edizione secondo te una formula più più bella accattivante? più giusta perché se una partita va male c'è tempo di recuperare nel ritorno assolutamente secondo te dove possono arrivare questi mi conosci? possiamo puntare alla vittoretta andee vuoi fare una dedica? come sempre alla squadra e a stasà va bene buco a lui ragazzi delle prossime gare ciao alla prossima ciao